Allora, diciamo che la passione è nata intorno ai 15-16 anni per la figura del DJ in sé, che è quando ho iniziato a scoprire un pochino appunto il mondo delle discoteche, il mondo della notte, diciamo. E poi a iniziare a fare le cose un po' più seriamente intorno ai 17 anni. Partito prima ho lavorato un po' nelle discoteche, quindi Mind Club, al Woodstock ai tempi, ma veramente cose blande, quasi più come PR che come DJ. E poi contemporaneamente nacque appunto un altro progetto, si chiamava Bunker 49, e da lì è iniziata un po' più la passione vera, perché comunque il progetto era mio e di altri ragazzi, quindi insomma da lì è iniziato un po' tutto. Io ho avuto la fortuna di essere nato in una famiglia dove mio padre è chitarrista e musicista, mia mamma è cantante, sicché sono proprio nato in mezzo alla musica. Sì, allora, diciamo che ho sempre ascoltato tutto molto volentieri, nel senso la musica quando è bella mi è sempre piaciuta tutta. Poi, appunto, mi ricordo la prima serata che feci fu in Fortezza da Basso, con Chris Living, suonava quattro ore mi sembra nel 2014, lontano 2014. E niente, insomma, lì è un po' partito l'amore per questa musica qua, perché veramente trasmetteva una cosa unica anche alle persone, cioè vedere proprio tutta la situazione, tutto quello che si creava intorno, era qualcosa di unico, che insomma, aveva avuto la fortuna. Un giorno magari non sarebbe bello di essere in un'altra parte. Esatto, esatto, e soprattutto anche, diciamo, vedendo anche altre situazioni come concerti, live, cioè per carità, cose bellissime, però ecco, l'emozione che trasmetteva quella roba lì alla gente era una cosa unica. Produco, sì, però non è uscito niente, perché sono molto restito a far uscire la mia roba, però è più un'insicurezza mia, sicuramente, ma anche perché comunque ci tengo molto a ricercare un sound particolare, cioè voglio uscire con una cosa che sia riconoscibile. Quindi ora comunque sta andando bene, un po' di dischi secondo me stanno uscendo bene, quindi vorrei iniziare, diciamo, per la fine dell'anno a iniziare a mandare un po' di tracce e vediamo. Ci piacerebbe fare un'etichetta, intanto noi tutti insieme come Modern Right, anche perché abbiamo avuto la fortuna in quest'anno qua di conoscere veramente tanti artisti che producono, producono roba veramente bella, insomma, che suonano a giro tantissimi DJ fortissimi, quindi, insomma, l'idea sarebbe quella di fare un'etichetta nostra, ovviamente inizialmente in digitale, fare un po' di WA e vedere come va, insomma, quindi piano piano. Con i ragazzi di Modern Right è iniziato tutto un annetto fa, poco più di un anno fa, l'11 novembre. Abbiamo fatto la prima serata e con loro, insomma, abbiamo un progetto che facciamo prettamente tecno, cerchiamo di portare roba un po' più underground, roba che secondo noi, appunto, qua manca e quindi stiamo provando, ci siamo presi un po' questa missione, esatto, di provare a portare questo tipo di musica. Poi lavoro anche con i ragazzi di Freaky Diki che mi hanno preso, diciamo, nel 2020, in pieno, cioè, fine Covid, in pieno Covid, d'estate, quando c'aveva questo barlume di speranza che si faceva qualche serata, andò a suonare al Club del Diavolo e con loro, appunto, poi è nata questa collaborazione, sono residente di loro e devo dire che, insomma, anche grazie a loro mi sono tolto diverse soddisfazioni e oltretutto è bello perché sono tutte persone, insomma, è un po' come una grande famiglia, cioè è uno staff comunque storico, è tantissimi anni che lavorano e il bello è che comunque sono stati anche contenti, no? Del fatto che magari avessi un mio progetto, magari altre realtà, esatto, altre realtà non lo apprezzano e questo lo so per esperienza perché mi è successo e invece con loro c'è modo anche di creare, insomma. Possibilità di farti esprimere un po' anche sotto la testa. Esatto, esatto. L'ansia iniziale c'è sempre, ovviamente, un pochino c'è sempre. Poi solitamente quando metti il secondo disco, diciamo, e le persone sono prese bene, passa tutto nel senso. Va in base anche alla situazione. Avendo questi due progetti, infatti, devo sempre cercare di fare anche sound diversi, stare attenti per la situazione in cui uno si trova. Cerco sempre di esprimere me stesso in tutto quello che faccio. Ovviamente non è semplice perché comunque cambia molto nel senso, anche come BPM, ora come tipo di musica, bene o male siamo lì. Però l'obiettivo è sempre cercare qualcosa che piaccia prima a me e trasmetterla anche agli altri. Quindi in ogni caso tanta ricerca, tanta selezione per poter arrivare lì tranquillo di fare tutto quello che voglio, ecco. Io fondamentalmente cerco di ascoltarmi dischi tutti i giorni. Cioè cerco sempre di trovare un momento per fare ricerca di musica. Io ho iniziato ad usare, vabbè, quello da diversi anni, Bandcamp, che comunque secondo me è il portale più figo per la ricerca della musica. È un po' una specie di social dove ovviamente poi compri anche la musica. Però, insomma, puoi seguire artisti, puoi seguire DJ, quindi vedi anche quello che comprano i DJ e seguire le etichette. C'è tantissime etichette che pubblicano solo su Bandcamp. Tanti artisti che pubblicano anche per conto loro, cioè nel senso fanno anche uscite, ma anche in vinile, anche cose per conto loro. Quindi fondamentalmente la sera se posso o mi metto a suonare, o mi metto a fare un po' di ricerca o a produrre, insomma. Dopo lavoro, esatto. Cerco di dedicargli tutti i giorni, ovviamente non è sempre possibile, però tutto il tempo che c'è cerco di dedicarglielo. Insomma, quando vuoi passare è il problema. Dai, grazie mille. Grazie.